E vi lascio un po' tutti i samir e i samir per un momento in questo anno La massa Oggi è il 7 di decennio E non mi ricordo Meno 6 giorni credo Non ci vedo un po' di non mi paura Come è stato? Io ho freddissimo E sono sotto le coperte E niente Aiuto che sono Ehm Da un vero fa che sono qui a letto Mi sono svegliata stamattina che erano le 6 Non lo so ormai E niente Comunque ci vediamo un po' più tardi che Devo carburare un attimo Ok scusate Ho avuto un problema prima Se c'era un clip vuoto Non la faccio a posto Ogni tanto la faccio Non so come mai Però vabbè Comunque Cos'è sta roba? Ah no non è mia Comunque eccomi Ho appena finito di fare colazione Colazione Ad ora E sto riprendendomi con l'ipad E dopo tantissimo tempo Mi sa che avrei sentito la sua voce Meravigliosa Ehm Molto Molto bello Oh Ragazzi Sapete per caso Dirmi cosa vuole dire proficua? Perché lo sento così spesso Vediamo Quanto manca al 13 dicembre? Quanto manca al giorno 13 dicembre? Ma perché è sto stupido? Quanto manca il giorno 13 dicembre? Ma perché Siri? Cioè, incredibile, non... Scusate, è possibile... Perché non è possibile, io dovrebbe... Non è possibile. Comunque non so perché, ma ultimamente Siri mi sta dando i numeri. ... Arrivo, arrivo ragazzi. Anzi, ci vediamo più tardi che non ho cambiato idea. Adesso proviamo. Ah, aspettate, devo mettere il codice. Non potete sapere. Aspettate... Allora... Qui è sempre lumina. Allora... Ok... 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 Niente... Mi se bloccato... Io un telefono sposa... Cioè, mi è partito da sol... Ahhhh... Brutto... Ah, ho bisogno di un po' di pazienza. Quanto manca il giorno 13? Quanto manca il giorno 13 di scendere? Ma l'abbia si è toccato. Quanto manca il giorno 13 di scendere? Sette giorni. Allora non lo dico niente. Dopo un'eternità non uscio il cellulare. Parico un po' il cellulare perché questo qua si scarica subito. E non mi piace qualcosa. Sì, schermo scurato. Stai zitto. E praticamente... 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 Oddio. Praticamente ho deciso anche di fare uno scherzo al mio ex. Al mio primo ex ragazzi. Non so se vi ricordate. Madonna. Mamma mia che ricordi. Allora... Sì, c'è una cosa che mi fa davvero ridere. Eh raga, io non vi ho detto la verità che un ragazzo c'è... Li ho nascosto. Mi sa che sono come Elisa Maino. Mai no, perché io ogni volta che ve lo dico mi lascio. Però... Stavolta... Anzi, nel 2017 è successa questa cosa. Che ogni volta che vi dicevo... Ragazzi, mi sono fidanzata, mi sono fidanzata... Boh, mi sono lasciata all'istante. Fantastico. Comunque... Comunque... Vediamo se è online... Il mio exone... Exone non si direbbe... Ehm... Aspettate... C'è l'ultima volta che ci sono sentite il 22 settembre. No, vabbè, non ci credo. Mi è nascosto l'ultimo accesso. Non ci posso credere. No, vabbè, non ci posso credere. No, vabbè, non ci posso credere. Ok. Vediamo. Vediamo. Poi vi aggiorno poi come... Come andrà a finire. Sicuramente a scuola. Perché penso che non fanno apporti. Boh, non lo so... Non lo so, è un'ipotesi. Raga, non ci credo. Neanche tipo 10 minuti mi ha risposto. Allora... Siamo ancora amici, per carità. Però è un po' strano. Non è da lui. Iscrivita. È un po' strano. He dovrebbe searched le passazioni. Se sarebbe le sensazioni. Oh, ok l'gerci. Sinonamente no un peso. Sonia casca, Un po' che vota... e 3 Sonia cascola che riguarda. Sono riuscito. Certionario. M'è risposta, non ce l'ho saputo Comunque, era per salutarlo E alla fine ho deciso di non farlo Lo scherzo Allora adesso per fare la doccia Oggi esco per fortuna Esco per fortuna Esco Esco Allora io adesso Porto con me il mio power 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 Dai dai sto registrando C'è tipo mio padre che ogni volta che devo registrare è sempre lì pronto a dirmi qualsiasi cosa A fare i rumori Non lo so Cioè Va bene tutto ma vi prego Cioè abbiate pietà di me Ecco E niente Adesso sto per fare la doccia Fortunatamente Sì ma non so dove Mettere Cosa Sì Ecco i miei vestiti Allora Oggi mi trovo sempre un jeans Assemblishue Un jeans molto Wow direi Un jeans molto Ciao A dopo Ragazzi È l'una di pomeriggio Ma mi sono Cioè Sono quasi le due Praticamente E mi sono preparata Per uscire Che bello Mamma che bello Sono le 13.52 Esattamente Però devo silenziare questo ipad Perché così almeno Così almeno tutto il tempo Però in realtà mi sono già preparata da mo E quindi niente Oggi vado al duomo E per fortuna le cose cambiano Ciao ragazzi Allora Noi siamo sulla metropolitana E niente Ancora una fermata E scendiamo Sono molto Sicuramente un po' Mi annoierò Perché ho scoperto Che Non andremo per niente A fare un giro Non lo so Sicuramente cambierà qualcosa E nulla Eccomi ragazzi Allora Io E altri Amici di mio padre Ci siamo incontrati E qui Sono vicino a mio zio Mamma mia che freddo Ho le mani tipo congelate ragazzi Non ce la posso fare Comunque Ora Stiamo prendendo qualcosa Perché mi sto tipo morendo di fame Questa è la pizza Tassardo E ho preso anche il cappuccino Dolce e salato Tipo misto E niente Sì Mix 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 I niente Adoro Allora guys, no, ormai c'è sta cosa di dire guys, comunque sono tornata a casa, vi devo raccontare questo fatto, no dai non ve lo racconto poi, oh sì, qualcosa di me lo racconto, allora donne non ve lo giuro, va bene, va bene, in sostanza avete presente quando le persone cercano le cose, quando in realtà si accorgono due minuti dopo che ce l'hanno in mano? E' successo mio padre che praticamente stava parlando con un suo amico e pensava di aver lasciato il suo cellulare da qualche altra parte, ha girato pagato per casa, per tutta la casa, per niente, si è accorta due minuti dopo che il suo cellulare ce l'aveva in mano e mio cugino tipo cosa? Aiuto, e niente comunque, ci vediamo più tardi che sono al telefono con la mia dolce metà, oddio, no, no raga io sto, Alexa, canta una canzone natalizio, ce l'ho io al cavatro, eh babbo natale, è quasi ora di mettersi in oggi, eh sì, ci siamo quasi vita mia, no papà, ecco di una canzoncina, oh 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 oh, evviva, allora musica, ascolta babbo natale, la sleppa vorrei trovare, nei cieli qua per volare, andiamo insieme a te, amica non so, sei divertissima o no, con tutti i bacchetti in posto no no, ma io sono piccoletta, sei dunque la pancetta, con i tuoi biscottini bene, e ci stiamo anche in tre, oh 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 oh, e va bene, mi hai quasi convinto, andatelo a tutti, oh 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 oh, no, vabbè, sto male, oh vediamo, vediamo cosa dico aspetta, Alexa, il giorno del mio compleanno si avvicina, mi dispiace, non sono sicura, vediamo se sta il mio compleanno, quando è il mio compleanno? al momento questa funzione del calendario non è disponibile, cavoli, vero, no, non è disponibile, oppure, aspetta, canta un'altra canzone natalizia, oh mio dio, no, ti prego, canta un'altra canzone, ma perché? Alexa, stop! Sì, nel frattempo mi è successo pure il computer. Per oggi ragazzi, la massa finisce qui, con me, che finisco di cenare, e, e, ora sto bevendo un po' d'acqua, questo bevendo un po' d'acqua, oggi non è stato, da te questo? o questo? questo è questo? Grazie a tutti. Non so cosa fare ragazzi, sono un po' più che altro, poi se me la sentirò ve ne parlerò, poi. E niente, spero che come voi si abbia piaciuto questo bravo e buonasera a tutti.